È un'illusione. Perché nella realtà la storia è un'illusione? Commento. Perché gli eventi storici sono creati dalle esigenze evolutive delle comunità fisiche, cioè dai popoli, che vivono quegli eventi. Ma le esigenze evolutive di quei popoli non sono le esigenze evolutive dei posteri. Perciò la storia che ci siamo lasciati alle spalle non può essere la nostra maestra di vita. Infatti, per la legge d'evoluzione ogni popolo ha le sue esperienze incarnative ed ogni componente di quel popolo ha la sua esperienza incarnativa. Grazie a tutti.